siamo tornati su grow avvocati di domani domani e gli avvocati faranno nuovi mestieri nuovi lavori ne abbiamo parlato tante volte su quali sono le opportunità oltre al all'avvocato classico oggi parliamo di nuove figure e parliamo dei trend legali che diciamo hanno avuto successo nel 2021 con un occhio per l'anno che viene per il 2022 questo tutto dopo la sigla ed eccoci subito qui su grow e uslo web radio l'ospite di oggi è il collega marco imperiale che è un avvocato che insomma ha un'ampia esperienza nel mondo del digitale e è responsabile per l'innovazione in lca studio che è un importante realtà nazionale eccolo qui ciao marco grazie per essere con noi su grow ciao elia buon pomeriggio buonasera a tutti eccoci allora dicevo marco che oltre diciamo alla professione di consulente insomma quella più classica di avvocato poi tu tutto un filone della tua esperienza del tuo lavoro riguarda proprio l'innovazione quindi supportare lo studio legale in tutta una serie di attività proviamo un attimo a indagare perché sono molto curioso diciamo qual è la così raccontaci la tua giornata tipo da questo punto di vista di quali sono poi le attività delle cose che ti che ti occupano classica domanda per la quale potremmo parlare l'intera l'intera puntata del podcast la verità è che chiamiamo chiamatemi come volete insomma edo innovation innovation manager innovation officer chief innovation officer c'è un solo articolo accademico su di noi l'ha scritto michelle de stefano qualche anno fa e ha intervistati 100 200 su tutto il mondo e alla fine è arrivata una conclusione ossia il chief innovation officer nella law firm non ha un ruolo definito il suo ruolo cambia a seconda della law firm per la quale lavora tra l'altro anche il suo background non è è sostanzialmente differente da caso a caso a volte sono dei partner che hanno deciso di dedicare all'innovazione a volte sono dei giovani che hanno due lauree magari in ingegneria o in economia in giurisprudenza a volte sono avvocati che hanno deciso di fare uno shift di carriera a volte sono avvocati che continuano a mantenere i piedi in due staffe cosa voglio dire con tutto ciò che l'innovazione sostanzialmente dipende dal posto nel quale la fai fare innovazione allo forma a singapore a milano a londra a new york sono quattro tipi di innovazioni diverse l'innovazione di uno studio 250 persone o in uno da 2500 persone sono innovazioni diverse l'innovazione in una boutique che si occupa di tax e in una full service sono diverse quello che abbiamo provato a definire noi io poi sono il primo e dove innovation per studi legali in italia adesso siamo 45 un po sparsi su milano e roma è stato provare a vedere cos'è l'innovazione per noi e nel nostro caso che quello di lca che una classica full service con 200 250 avvocati e uffici un po sparsi per l'italia e mondo ma primariamente italia innovazione vuol dire innovazione di pensiero quindi è qualcosa che vira anche verso l'innovability e quindi nel nostro caso vuol dire legal design vuol dire tour party funding vuol dire intelligenza artificiale vuol dire digital transformation e vuol dire sostanzialmente tutto quello che di nuovo sta avvenendo in questo mondo dove paradossalmente al di là di quanto ci raccontano la domanda legale è in aumento e quindi è anche necessario capire come provare a concretizzare insomma le esigenze dei clienti in assistenza vera e propria una domanda che in aumento sia da parte del cliente ma anche appunto da parte dello studio regale che diventa una realtà complessa e ha bisogno appunto di figure dedicate come quella di cui ci sta parlando marco e innovazione nella mente dell'avvocato ha sempre a che fare con la tecnologia da quello che ci dici invece mi sembra di capire che buona parte riguarda l'organizzazione anche dello studio regale quindi non innovazione semplicemente intesa come appunto digitale eccetera ma proprio una questione di come dire come individuare le migliori modalità organizzative o anche di pensiero di individuare come offrire i servizi giusto sì di fatto se guardi il significato etimologico della parola innovazione deriva dal latino in più nuovare quindi vuol dire guardare le cose da un altro punto di vista la tecnologia non è necessariamente contemplata la tecnologia va bene quando è utile io poi sono un grande sostenitore della tecnologia sostengo che gli avvocati di domani non saranno quelli che usano le tecnologie bene o male saranno quelli cioè meglio quelli che li usano che non lo usano saranno quelli che li usano bene lo usano male quindi a tecnologie assolutamente importante ma non è fine a se stesse tecnologie ha finalizzato uno scopo che può essere migliorare la nostra attività evitare alcune attività di tipo commodity incrementare i nostri margini eccetera eccetera la parte di organizzazione barra processo io la vedo più correlata a delle figure specifiche i legal engineer i legal project manager con le loro differenze però molte volte le dinamiche non sono così chiare e quindi ci sta che ci possano essere degli orizzonti un attimino più labili più ibridi e quindi un innovazione si può un innovatore si possa occupare di processo o una persona che si occupa di processo proprio a seguito del suo background magari in ingegneria magari in economia possa dire sai che c'è magari c'è questa domanda da parte dei clienti che voi non avete visto perché siete occupati a fare altro poi immagino che dipenda anche organizzazione interna cioè il fatto che una figura come la tua non può essere un tirocinante non può essere l'ultimo arrivato e non può neanche essere un operativo cioè una figura che comunque nell'organizzazione interna deve essere diciamo collocata in modo alto immagino anche con un filo diretto con i soci con chi prende le decisioni voglio dire è una figura strategica allora che sia una figura strategica assolutamente poi il raggio della strategia dipende dallo studio regale per il quale lavora cioè io vorrei evitare ma non perché non lo voglia fare io ma perché non si presta la figura di categorizzare etichettare perché veramente io conosco tanti giovani che si sono rimboccati le maniche che hanno magari lanciato dei software legal tech all'interno delle proprie firm o che magari si sono occupati di progetti innovativi ecco magari non hanno il cappello da innovation manager ma di fatto stanno promuovendo l'innovazione all'interno dello studio regale che è quello che più comporta ed è vero anche che non necessariamente l'innovazione è verso l'interno può essere verso l'interno o verso l'esterno nel momento stesso in cui sostanzialmente crei un dipartimento di legal design per cui offri servizi di questo tipo alla tua clientela non stai più parlando di dinamiche interne è ovvio che avere un rapporto diretto con il comitato esecutivo della firm con i senior partner di certo aiuta aiuta avere un track record nel settore aiuta avere le spalle larghe perché portare innovazione in uno studio regale è difficile aiuta ma aiuta da un punto di vista di leverage di credibilità interna per questo molti di noi hanno fatto il percorso e sono già avvocati perché un avvocato vede un altro avvocato in maniera diversa poi soprattutto negli studi strutturati la differenziazione tra avvocato e staff è abbastanza marcata e quindi è difficile sostanzialmente che una persona di staff possa essere coinvolta da un punto di vista strategico il che non vuol dire che è impossibile ma ci vuole una firm che sia particolarmente illuminata per il semplice fatto che magari lo staff lo pensi come la segretaria, l'accountant, la receptionist, l'IT manager e via dicendo ma d'altronde nelle società per le quali lavoriamo è difficile avere un cyber security expert, un privacy expert nei vari board ciò non vuol dire che tra qualche anno arriveranno ma siamo ancora abbastanza fermi perché nel board vuoi persone che abbiano un certo standing, un certo track record, un certo tipo di esperienza un certo tipo di certa maniera di vedere il mercato il che non vuol dire che attendere cyber security expert e privacy expert o data governance expert io ormai ho smesso di parlare di privacy da un po' di tempo non possano avere un peso sempre più marcato Prima dicevi una cosa interessante sul fatto che ci sono molte, in molte realtà ci sono poi colleghi avvocati che di fatto fanno la innovazione negli studi legali comunque si creano uno spazio senza il cappello quindi senza un investimento o un riconoscimento in qualche modo credo che sia un tema interessante nel senso che anche solo il fatto che uno studio riconosca che ci sia un plus diciamo in questo tipo di attività dice qualcosa di quello studio e anche dice qualcosa poi dell'avvocato perché poi magari si fa certe volte anche fatica ma senza dare questa etichetta viene anche un po' non so, magari non si riconosce una dignità di un lavoro che non è effettamente quello dell'avvocato classico è un qualcosa di più che ha un suo riconoscimento, un suo valore e insomma immagino anche da un punto di vista economico che possa essere rappresentato in modo diverso ma tutto sta nella forma nella quale lavori se non ti trovi bene con il cappello che hai e se non ti trovi bene con l'uomo al momento che ottieni nulla vieta di cambiare la realtà nella quale lavori o le dinamiche con le quali operi abbastanza transcian come approccio e poco paternalista però alla fine io non vorrei essere in una firm che non guarda al mercato 5-10 anni da adesso noi abbiamo cominciato, guardiamo il mercato con un approccio innovativo ed è il motivo per cui lavoro se non lo guardassimo con questo approccio non lavorerei qui ma ad esempio il fatto che abbiamo un venture capital dedicato con il quale investiamo nelle startup piuttosto che un ufficio dentro Rich Farm che è uno dei più grandi incubatori d'Italia o il fatto che abbiamo l'innovab a Genova dove lavoriamo con gli sviluppatori e gli ingegneri per determinati tipi di software legal tech o tante altre cose che ti possono nucleare una dopo l'altra fanno sì che dico, beh, sì, mi piace lavorare in questo studio se queste cose non ci fossero avrei cercato un'altra realtà Qual è? Non ci fosse stata di aver cercato un'altra realtà Sì, no, è giusto Senti Marco, ci siamo già confrontati e te su questo tema ma vedo che è ancora un tema centrale per le associazioni, per la politica forense come sai noi in radio siamo tra i principali commentatori dei vari congressi e torna sempre il tema del monocommittente Allora ti chiedo, questo tipo di figure che sono all'interno dello studio legale e che quindi tendenzialmente tendono a non avere, diciamo, clienti propri ma in qualche modo essere una parte importante di uno studio Qual è la tua posizione su questo? E se il dibattito come è ancora attualmente negli ultimi anni sia secondo te apposto nella madoniera corretta o se serve un punto di vista un po' laterale? Bella domanda, un classico tema anche qui di quale potremmo discutere per mezz'ora tra l'altro nulla vieta che io abbia clienti miei alla fine sono un avvocato, faccio il mio mestiere le ore sono 24, quelle da senziente che passano in studio tra il 70 e l'80% il che non vuol dire che ragionando in maniera efficiente e ragionando in termini o smart hours piuttosto che di longer hours si possano ottenere i risultati di tanta gente Premesso questo, l'avvocato monocommittente è certamente un tema l'innovazione è di pensiero, ci sono dei giganteschi problemi di avvocatura ti faccio un esempio, il fatto che andiamo per cassa e non andiamo per competenza perché siamo associazioni professionali gioco forza, impatta sull'innovazione, impatta sugli investimenti abbiamo una professione in crisi ma anche per causa nostra perché se di 240.000 avvocati 130.000 chiedono 600 euro a cassa forense c'è qualcosa che oggettivamente non va perché vuol dire che o hanno avuto una contrazione fortissima hanno meno di 10.000 euro di reddito l'anno il che vuol dire che sostanzialmente non campi Certo Marco, mi ripeti la percentuale perché su questa poi quando ritorniamo a parlare gli avvocati siamo tra 240.000 e 250.000 gli avvocati che hanno chiesto il contributo sto andando a memoria non ho i dati sui me dovrebbero essere 130.000 che hanno chiesto i 600 euro e per chiedere il contributo ci risulta anche a me esattamente ma basta che prendi i dati della cassa forense e guardi i redditi degli avvocati e guardi quanti sono gli avvocati che hanno reddito zero, reddito sotto i 10.000 euro sotto i 20.000 euro e quindi delle due luna o la professione non è redditizia o c'è nero e quindi in entrambi i casi si può parlare tanto qua di innovazione nuove tecnologie, avvocati robot e via dicendo ma se non c'è l'innovazione di pensiero ovviamente l'avvocato monocommittente è un tema perché se si lavora per determinate realtà si emette la fattura a fine mese ma sia a partita IVA e essere a partita IVA lo sappiamo cosa voglia dire vuol dire niente tredicesima a meno che lo studio non otti bonus niente tfr, niente maternità essere lasciati per non sia per uno ecce 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 il tema è chiave quello che ti posso dire ed è una delle ragioni per cui lavori in RCA è che il nostro managing partner per chi insomma non conosce la realtà gli studi strutturati il managing partner è un po' il direttore d'orchestra è fondatore e presidente di ASLA ASLA è una realtà da centinaio più o meno di studi legali che condividono questo tipo di prospettive quindi sono studi in cui si parla primariamente in inglese si fanno operazioni straordinarie che hanno a che fare con tutto il mondo hanno base tendenzialmente più a Milano o a Roma che in altre città d'Italia sono più aziende o più business legal advisor rispetto al tipico avvocato sole practitioner di centro-sud Italia noi abbiamo condotto questa battaglia il primo passo è stato adottare il codice ASLA di best practice quindi sostanzialmente gli studi che fanno parte di ASLA hanno un codice interno per cui tu superisci al mancato pagamento della maternità alla cassa forense aiuti il collaboratore con il quale non puoi più lavorare magari lasciandogli due, tre, quattro mensilità a seconda del posto fai sì che sostanzialmente si provi a lavorare in maniera positiva, bella nella tua realtà e quindi noi ci siamo autoregolamentati ma noi siamo ancora qui che aspettiamo dal 247 del 2012 i regolamenti applicativi della cassa forense perché avete visto che sono uscito il nuovo regolamento sulla STA poi magari ti invito un'altra volta a parlarne perché il nuovo regolamento sì ma anche l'STP ne possiamo parlare l'STP ne possiamo parlare quanto vogliamo ma alla fine non ha avuto il successo che ci si aspettava ma l'apertura soci di capitali la quotazione in borsa insomma tutta una serie di temi la concorrenza con gli angloamericani in Italia che hanno un differente tipo di regime si potrebbero aprire duemila orizzonti dei quali posso parlare veramente per ore il fatto sta che noi ci siamo autoregolamentati come ASLA è la migliore delle situazioni possibili a fronte comunque di una comunicazione normativa che non c'è di un intervento normativo che non c'è lo stiamo aspettando da anni ma ti potrei parlare di questo ti potrei parlare di double dip ti potrei parlare di tante cose il problema è sentito poi io lo ripeto sta molto al collaboratore vedere la realtà nella quale collaborare se sei un praticante che viene pagato zero e il tuo valore è riconosciuto in ti do la scrivania e ti sto formando sta a te la scelta di accettare quella condizione o magari dare valore economico a quella formazione o trovare altri tipi di strade purtroppo il mercato da questo punto di vista la fa da padrone cioè chi non cioè di fatto se si accetta questo sistema ne si è complici è un sistema Marco che secondo te punta alla aggregazione e a strutture diciamo con con un numero sempre più grande di avvocati quindi sempre meno studi con pochi componenti o professionisti in solitaria altra bella domanda il fenomeno dell'aggregazione c'è ma il fenomeno dell'aggregazione c'è perché la domanda dei clienti tende ad essere molto complessa molto articolata e bisogna rispondere con team interdisciplinari in sempre meno tempo cosa vuol dire che quando hai a che fare con la robotica tu hai a che fare con problematiche di tax problematiche di lab problematiche di corporate problematiche di IP problematiche di tech e hai bisogno di magari 5-6 professionisti in carreggiata da organizzare veramente in 30 secondi life science anche qui magari è la parte brevettuale la parte corporate la parte di farmaceutico e via dicendo quindi è difficile io poi non sono un grande fautore dell'avvocato tuttologo è difficile che un avvocato possa fare tutto il paragone che io faccio ma lo potrei fare anche come come CF Innovation Officer con più di frequente quello col mondo medico hai il reparto di ortopedia il reparto di pediatria il reparto di ginecologia il reparto di cardiologia e praticamente a seconda della tipologia di di paziente lo devi dirottare in uno senso o nell'altro a volte fai riferimento dell'equip il che non vuol dire che non ci possa essere l'avvocato di famiglia il medico di base che si occupa dello screening o magari che interviene sono utilissimi ma non può essere solo quello e ovviamente se lavori per San Raffaele e l'Humanitas e la medicina sta innovando è giusto anche investire nell'innovazione ma perché ne beneficia il paziente e ne beneficia da un punto di vista di servizi offerti e da un punto di vista di efficientamento del lavoro che tu stai facendo perché se io lavoro al gemelli e hai il medico laureato ad Harvard che utilizza un macchinario da 40.000 euro e deve processare una richiesta che gli è arrivata in carta e penna è un qualcosa nel quale anche dall'esterno mi sembra opportuno intervenire sì poi sulle specializzazioni se ne parla da 20 anni è probabilmente una quadra non l'abbiamo ancora non l'abbiamo ancora trovata ma tanto la fa il mercato quindi dal mio punto di vista è un po' come quando si parla dell'accesso alla professione potresti anche abolire l'albo potresti anche abolire l'esame è il mercato che fa la differenza poi l'esame per come noi lo conosciamo è anacronistico a dire poco quindi non non mi aspetto anche perché cioè se io ho dei praticanti che fanno privacy dalla mattina alla sera e non hanno mai visto il tribunale per quale motivo mi devono valere di meno di un ragazzo che ha fatto 20 udienze e semplicemente contenzioso fanno cose diverse hanno fatto scelte diverse l'avvocato non è solo l'avvocato che fa il tribunale è anche l'avvocato che fa il tribunale e parli con qualcuno che ha fatto la gavetta in tempi in cui si andava veramente in tribunale perché io ho lavorato in una boutique mi sono fatto le mie odienze mi sono fatto la mia vita di cancelleria mi sono fatto le mie notifiche ma non per questo sono migliore di altri ragazzi che magari hanno lavorato in brevetti o in marchi o in diritto farmaceutico dalla mattina alla sera fatturando 2000 ore l'anno qui ci abbiamo siamo nel mezzo di un passaggio generazionale comunque nel senso che abbiamo ancora un'impronta che è molto forte sull'avvocato come era inteso 20 30 40 anni fa quindi vediamo se andando avanti diciamo riusciamo anche ad ottenere un esame che sia più equo per le diverse esperienze siamo alla fine del 2021 ti chiedo quali sono secondo te i temi trend diciamo che hanno avuto più fortuna del 2021 e tra l'altro di questi se secondo te hanno una effettiva fortuna o se su qualche tema siano temi più utilizzati dagli avvocati diciamo per pubblicizzarsi che non effettivamente avvertiti dai clienti come loro bisogni ma di certo se io fossi come posso dire uno studente o un avvocato in cerca di lavoro il PNRR sarebbe uno strumento dal quale partire e il PNRR verte su tre grandi pilastri che sono innovazione sostenibilità e diversity quindi così come ho detto che non si tratterà di avvocati che sanno o non sanno utilizzare tecnologie si tratterà di avvocati che sanno utilizzarle bene o male per me nel futuro non si tratterà di avvocati che si occupano di sostenibilità o non si occupano di sostenibilità si tratterà di avvocati che si occupano di sostenibilità bene o male perché la sostenibilità innerba tutto il business innerva l'IP magari col greenwashing innerva il corporate innerva la comunicazione aziendale innerva la parte di strutturazioni e abbiamo delle PMI che veramente qualche anno da adesso se non si presentano con dei programmi di sostenibilità non riceveranno appoggio dalle banche il che vuol dire che con 85% di PMI in Italia forse qualcuno che articola questo tipo di bisogno ci dovrebbe essere questo è il mio punto di partenza e mi fa molto piacere perché ho l'innovazione e la vedo più come innovability quando ti parlavo di innovazione uno degli esperimenti dei progetti di cui sono andato più fiero negli ultimi anni noi abbiamo sai che le firme sono strutturate tendenzialmente con i loro comitati interni noi non abbiamo solo comitati con insomma partner con i capelli bianchi abbiamo anche due comitati un comitato solo di giovani dello studio e un comitato misto che si chiama comitato sustainability dove ci sono io c'è il managing partner ci sono dei giovani di studio c'è anche un altro avvocato che è responsabile della practice di diritto ambientale e di fatto l'anno scorso i ragazzi hanno spinto per avere un progetto nel quale mostrare qualcosa avere impatto io ho coordinato una guida che è l'Unione Sustainability la potete scaricare tanto è disponibile gratuitamente sul nostro sito in pdf ho coordinato una decina di ragazzi dello studio e quindi abbiamo analizzato da un punto di vista legal e da un punto di vista fiscale tutta una serie di dinamiche interessanti a livello di sostenibilità e questo è dal mio punto di vista un progetto fortemente innovativo perché coinvolge i giovani perché gli dà impatto è ovvio che c'è un grande ammontare di ore non fatturabili dietro ma ci sono anche stati tanti giovani che ci hanno dedicato le noti e weekend perché continuavano a lavorare con il resto e quando ci sono dei giovani che si rimboccano le maniche e lavorano bene è anche giusto premiarli e come li premi non li premi sostanzialmente solo da un punto di vista economico perché non è solo quello che vogliono i giovani li premi dicendo vuoi crescere a questo punto ci metti la faccia e quindi e anche attribuendoli il lavoro che è stato fatto ma sì perché potevo rilasciarlo come Marco Imperiale il signor che si prendono poi diciamo la firma di un lavoro di altri lo so ma non ma sì ci sta che io potevo mettere il nome Marco Imperiale e non mettere i nomi dei ragazzi io ho messo i nomi dei ragazzi anzi addirittura abbiamo coordinato una campagna di marketing dove veramente i ragazzi hanno fatto una quote una citazione a testa e hanno promosso loro stessi sui social il lavoro ma anche lì se sei in una struttura nella quale il signor partner si prende il merito e la cosa non ti piace nulla ti vieta di cambiare struttura non è un tuo diritto avere a che fare con cioè è metterci la faccia non è un diritto essere considerato accountable non è un diritto alla fiducia cioè io mi ricordo ancora quando sono entrato nel mio primo studio e mi hanno detto la fiducia te la devi guadagnare io ho accettato di ho accettato quella sfida potevo anche cambiare studio quindi fai un calcolo di costi e benefici e dire guarda in questo studio sto imparando da questo signor partner sto facendo cose veramente fighe il signor partner vuole metterci la faccia e io non esisto che cosa a cosa do più valore do più valore all'orgoglio o do più valore alla crescita ed è lì che sostanzialmente il praticante o il giovane avvocato cresce in questo tipo di sfide sì poi ognuno si prende la responsabilità chiaramente delle proprie decisioni come dicevi giustamente prima meno paternalismo e più responsabilità individuale che è importantissima ma io ti devo dire ho avuto da questo punto di vista un'esperienza sono stato molto fortunato perché fin dal primo giorno i clienti mi vedevano ci parlavo ero responsabile di quello che dicevo e poi mi prendevo oneri e onori diciamo di quello che facevo mi dispiace quando vedo ragazzi che lavorano tanto poi sono nascosti nello stanzino delle scope diciamo o in altre situazioni parlavamo di ragazzi mi dici l'età media di questi gruppi di lavoro più o meno la guida noi sustainability l'età media era veramente giovani dello studio ma giovani giovani quindi ti dirò 26-27 anni cioè veramente praticanti che magari avevano già fatto un percorso come stagisti quindi avevano un anno di lavoro sulle spalle ma non 10 anni di lavoro sulle spalle poi tutti i paragrafi sono stati approvati dai soci perché ovviamente essendo un prodotto pubblico nel quale ci abbiamo messo la faccia anche come studio era giusto che ci fosse un check io mi sono occupato di fare da collante e gestire però ho scelto di agire in design thinking ma proprio puro quindi sono stati i ragazzi che hanno deciso la copertina i ragazzi che hanno deciso il tono editoriale i ragazzi che hanno deciso in maniera democratica che argomenti trattare ci sono tantissimi argomenti che non abbiamo trattato nulla vieta magari di fare una seconda edizione di trattare quelli di cui non abbiamo trattato quindi abbiamo quando poni dei ragazzi giovani in un contesto di fiducia ma di fiducia vera poi lì una persona messa nel giusto contesto sboccia quindi ti fa vedere se veramente dietro c'è qualcosa da tirare fuori rispetto al praticante diciamo in qualche modo sempre molto incasellato nel fare diciamo rispettare gli ordini ecco signor generale ma c'è questo fenomeno comunque Marco penso che capiti anche te quando sono in Italia nelle riunioni con clienti società sono sempre tra i più giovani per il momento arriverà il noturno perderò i capelli anch'io quando mi capita con società all'estero sono non dico più vecchio però nella metà cioè generalmente ci sono consulenti un po' più giovani un po' sotto anche i 30 che hanno già dei ruoli importanti sia nelle aziende sia negli studi legali è un fenomeno che riscontri anche te che ti capita oppure no ma nè perché molte delle riunioni alle quali partecipo io tendenzialmente sono con la parte più senior executive e quindi io stesso tendo ad essere il più giovane del gruppo perché è gioco forza allora il problema c'è nel momento stesso in cui tu hai rispetto agli US cioè gli United States hai un anno in più di liceo poi hai cinque anni di giurisprudenza che sono cinque poi hai il praticantato e il praticantato è sacrosanto però in cinque anni i ragazzi non sanno scrivere e non fanno il lavoro dell'avvocato e quindi hai dei pilastri ma necessariamente la tua crescita è posposta noi dobbiamo prenderli come studio e formarli da zero il che non vuol dire che non prendiamo degli stagisti dell'università in tanti si propongono in tanti vengono vengono presi ma comunque cioè la pratica seria vuol dire comunque cioè che quelle cinque mila ore di lavoro tu le hai fatte e se queste tu cinque mila ore di lavoro le hai fatte a venticinque anni o le hai fatte a trenta o le hai fatte a ventidue è ovvio che la tua posizione sostanzialmente all'interno sarà diversa quindi non credo che l'Italia sia poco meritocratica credo che ci siano strutture sia l'Italia che all'estero che riconoscono meno il merito e anche qui sta a noi scegliere in quale struttura vogliamo lavorare ci sta che tu possa essere più giovane in determinate riunioni ma perché il sistema italiano stesso fa questo il che non vuol dire che in una struttura che ti premia il ragazzo possa o la ragazza possa essere esposto a lavori con clienti presenti a casi veramente molto tosti ma molto belli molto complessi sin da subito bene Marco io ti ringrazio perché abbiamo spaziato tantissimo anche rispetto ai temi che ti avevo richiesto quindi ti ringrazio per la tua così per la tua partecipazione e a questo punto io insomma naturalmente poi lascerete i vostri commenti poi anche con Marco magari ritorneremo in una delle prossime puntate se qualcuno di questi temi è piaciuto ci vogliamo tornare vi do l'appuntamento a giovedì prossimo dove invece con Nicola Di Molfetta cercheremo di rispondere alla domanda se ci sono troppi avvocati in Italia e vedremo che non è diciamo non è una domanda poi così recente ma è una domanda che alla quale hanno risposto molti altri inaspettati prima di noi da Elia da YouSlow Web Radio è tutto grazie a voi e a presto a presto a presto